E' già Mario Fontanella il triunfatore assoluto della Castellarquato-Vernasca, la gara di regolarità organizzata dal club automotoveicoli d'epoca sulle strade della Valdarda. Fontanella fa cantare il motore della sua mitica Ford Roadster del 1933 e conquista il primo posto in classe A, missando il successo conseguito nell'edizione 2011. Oltre 60 i mezzi che hanno preso il via il rimattina dal pubblico passeggio e dopo l'attraversamento di San Giorgio, Gorparello, Velleia, Luganiano e Castellarquato sono giunti a Vernasca sotto una pioggia piuttosto fastidiosa, che non ha però impedito la buona riuscita della manifestazione. Sempre in classe A, a secondo posto Diego Garilli, a bordo della sua Alfa Romeo Giulia Spider del 62, con la quale si è giudicato il match race del pomeriggio. Al terzo un'altra Alfa Romeo, una Giulietta del 60, guidata da Antonio Cappellini. In classe B, successo a Fiorenzo Malvicini e quindi ancora un'Alfa Romeo protagonista, in questo caso una Spider del 72.